Con la dottoressa Maria Antonietta Firmani, Deus Ex Machina, organizzatrice di questo interessantissimo convegno che porta buyers stranieri qua in Abruzzo. Innanzitutto è un'operazione di marketing territoriale organizzata come e per chi e con chi? Dunque, questo è un progetto nato l'anno scorso dall'incontro con il presidente Daniele Becci. Io mi occupo di arte contemporanea dal 2005 e ho avuto il piacere di incontrare grossi autori come Achille Bonitoli, Vettore Sozzas, Oliviero Toscani, Mario Botta, insomma grandi personaggi dell'arte. Ho sempre pensato che l'arte fosse un veicolo e che potesse accendere una luce nuova sui territori. A Becci, al presidente Becci della Camera di Commercio di Pescara è piaciuta questa idea e mi ha dato carta bianca per organizzare qualcosa. Nel contempo volevamo promuovere naturalmente il territorio, il territorio che è raccontato anche dalle aziende, soprattutto l'agroindustria racconta nello specifico un territorio perché chiaramente un vino prodotto in Abruzzo è diverso da un vino prodotto nelle Marche per ovvi motivi di sole e di aria. E quindi mi sono messa in giro per i castelli d'Abruzzo per cercarli. E' venuta fuori l'idea della Biennale d'Arte e Gusto, nel senso che in Abruzzo abbiamo 650 castelli su 305 comuni. Molti sono veramente delle perle di architettura del passato, spesso sono un peso per le amministrazioni perché non sanno come gestirli, perché costano. E allora ci siamo detti, bene, offriamo un castello ad ogni paese del mondo, ma del paese che invitiamo? Invitiamo la Biennale, la Biennale d'Arte Contemporanea perché l'arte contemporanea è quella che racconta dall'interno una cultura di un luogo. E ci interessa la cultura, non solo il sistema economico. D'altro canto, il sistema economico legato alla cultura è un sistema economico sostenibile, è un sistema economico che rispetta il territorio e l'ambiente. E quindi abbiamo fatto questo connubio. E' venuta fuori questa prima edizione che il Presidente Becci ha chiamato Edizione Zero, e quindi ci auguriamo che si replichi, dove appunto c'è stata la mostra d'arte contemporanea. Con il piacevole incontro con voi abbiamo coinvolto anche i russi perché all'inizio erano soltanto Olanda e Turchia. Della Turchia abbiamo invitato infatti la Biennale che è praticamente realizzata dal più grosso gruppo imprenditoriale turco. E quindi nel mondo l'arte contemporanea è sempre legata al business e questo ci interessa, ci fa piacere. Quindi ci auguriamo che anche con voi che rappresentate il mondo della Russia si possa poi sviluppare anche nella direzione dell'arte e naturalmente anche l'Olanda. Questa cosa l'abbiamo fatta con Alessandro Addari che si occupa invece nello specifico delle aziende e quindi di creare un B2B tra le aziende del territorio e il resto. Ecco, io voglio fare due considerazioni. La prima, gli ospiti russi che abbiamo portato qua non conoscevano l'Abruzzo, nel senso che le loro conoscenze dell'Italia erano molto per la Puglia, in particolar modo per il Salento, e molto per l'Emilia, visto le due regioni che più o meno vi comprimono in questo. Secondo lei un marketing territoriale a livello europeo o mondiale è sufficiente questa sinergia in aziende e in gastronomia storia o qualcos'altro? C'è bisogno, non so, di un intervento anche politico, quindi penso alla Camera di Commercio, quindi penso anche alla Regione? Ma ovviamente, perché tutto sommato possiamo dire che nella geografia dei luoghi comunque chi governa un territorio è il sindaco, perché il sindaco rispetto anche ad altre figure in realtà ha una conoscenza diretta e anche un'influenza diretta molto importante, tant'è che in questo primo progetto sono molto contenta che hanno aderito in maniera assolutamente operativa dieci sindaci ed è per questo che siamo ospiti di dieci comuni. Ovviamente il territorio è un luogo pubblico e quindi è evidente che ci vuole l'interesse della politica. Con questo grosso risultato che abbiamo avuto come primo inizio, malgrado anche i fondi non fossero eccessivi, abbiamo acceso un riflettore e quindi stiamo già avendo nuovi interessi della politica, per esempio a livello regionale, perché il processo politico dovrebbe essere da traino, a volte segue l'onda e allora noi speriamo di fare qualcosa di buono, che si segue e si tira insomma un po' a ciascuno. Noi la ringraziamo come ospiti della vostra organizzazione, i nostri buyers russi hanno gradito moltissimo, noi eravamo a Montesilvano, quindi in Pescara, ha valutato benissimo la spiaggia, il retroterra montano con la maiale eccetera. Speriamo che possa servire sia a noi e sia a voi portare l'Abruzzo nelle conoscenze e nei gusti dei russi. Grazie ancora. Grazie.